Ciao a tutti! Stai cercando di mantenere il tuo corpo in forma? So che sei fissato o fissata con i muscoli, ma devi prenderti cura anche degli altri organi, in particolare del fegato. Il fegato aiuta il corpo a digerire il cibo e a eliminare le tossine. Se non lo tratti bene, non sarà in grado di fare il suo lavoro. Questo porta all'insufficienza epatica. Per fortuna, la dieta può aiutare a cambiare le cose. Parliamo dei migliori alimenti che aiutano a disintossicare il fegato. Hai mangiato pesce e le verdure a foglia verde? Parleremo di tutto questo e di molto altro. 1. Verdure crucifere. Quando da bambini ci dicevano di mangiare le verdure, è probabile che almeno alcune fossero crucifere. Sono un gruppo eterogeneo che comprende cavoli, broccoli e cavolini di Bruxelles. Le verdure crucifere sono ricche di sostanze nutritive, tra cui le vitamine C e K e i carotenoidi. Contengono inoltre composti chiamati indolo 3-carbinolo e sulforafano, molto ben studiati perché sostengono, in modo specifico, la salute del fegato. Studi clinici hanno infatti dimostrato che l'indolo 3-carbinolo favorisce la salute del fegato e una sana risposta infiammatoria, contribuendo a stimolare gli enzimi disintossicanti del fegato per favorire l'eliminazione delle tossine. 2. Tè verde. Se sei stressato o stressata, puoi provare a rilassarti con gli effetti calmanti del tè verde, ricco di antiossidanti. Sebbene sia noto per i suoi effetti benefici sull'umore, il tè verde è anche una potente scelta per mantenere il fegato in salute. Il tè verde contiene catechine, soprattutto epigallocatechina 3-galato, composti con potenti proprietà antiossidanti, che hanno dimostrato di essere utili per la salute generale. In uno studio clinico, 17 pazienti che hanno consumato 700 millilitri di tè verde contenente più di un grammo di catechine ogni giorno per 12 settimane, hanno contribuito a combattere lo stress ossidativo, oltre a promuovere la salute del fegato e una sana risposta infiammatoria. 3. Verdure a foglia. È probabile che anche le verdure a foglia, come il cavolo, gli spinaci e il prezzemolo, facessero parte del menù quando ci dicevano di mangiare le verdure. Ma si spera che tutte le insistenze siano servite a qualcosa e che ora siano uno dei punti fermi del tuo stile di vita sano. Le verdure a foglia sono ortaggi ricchi di sostanze nutritive che contengono clorofilla e una serie di vitamine e minerali salutari, oltre a possedere forti proprietà antiossidanti. Perché è importante? In uno studio condotto su animali si è scoperto che la clorofilla aiuta a migliorare la capacità di disintossicazione del fegato. 4. Noci. È il momento di andare matti per le noci. Uno studio clinico condotto su oltre 4.500 soggetti ha rilevato che il consumo di noci nell'ambito della dieta mediterranea aiuta a mantenere una risposta insulinica sana, il colesterolo a livelli sani e persino a mantenere un peso sano grazie anche all'elevato contenuto di fibre e acidi grassi. Sebbene tutti questi frutti a guscio apportino benefici alla salute, le noci in particolare sono tra le più benefiche per la salute del fegato poiché sono ricche di acidi grassi omega 3 e omega 6 e di antiossidanti polifenolici. Inoltre sono note per il loro sapore neutro che le rende un'ottima aggiunta alle insalate o come spuntino veloce. 5. Olio d'oliva. L'olio d'oliva, oltre a essere un alimento base della dieta mediterranea, è un'ottima fonte di grassi sani ed è noto per facilitare la salute degli enzimi epatici. E' anche protettivo per il fegato grazie alla sua capacità di combattere lo stress ossidativo, di promuovere una sana risposta infiammatoria e una sana risposta insulinica. Sebbene sia ottimo nei soffritti, aggiungere l'olio d'oliva nei pasti è un ottimo modo per assicurarsi di assumerne a sufficienza. 6. Salmone. Un altro alimento fondamentale della dieta mediterranea che pone l'accento sui grassi magri è il salmone, che non è solo un'ottima scelta proteica, ma anche una grande fonte di acidi grassi omega 3. Sebbene gli acidi grassi siano noti per il loro profilo salutare per il cuore, hanno effetti positivi anche sulla salute del fegato. Da una meta-analisi di 18 studi è emerso che l'assunzione di omega 3 favorisce la salute del fegato. Bisogna però prestare attenzione alla frequenza con cui si consuma il salmone nella propria dieta, poiché il pesce e i crostacei possono contenere concentrazioni più elevate di mercurio, un metallo pesante che può avere un grande impatto sulla salute. 7. Frutti di bosco. Si può avere un fegato molto sano con un'alimentazione adeguata a supporto. Ma puoi anche essere sano o sana con i frutti di bosco e fare del bene al tuo fegato. I frutti di bosco sono ricchi di flavonoidi che hanno dimostrato di facilitare la funzione epatica e la disintossicazione. In uno studio del 2021 condotto su circa 2700 adulti è stata riscontrata una correlazione positiva tra un elevato apporto di flavonoidi e un fegato sano. 8. Agrumi. Gli agrumi sono noti per il loro elevato contenuto di vitamina C e per i loro benefici per la salute del sistema immunitario. Ma sapevi che contengono anche polifenoli bioattivi che possono contribuire alla salute del fegato? Questi polifenoli possono contribuire a inibire l'infiammazione per aiutare la salute del fegato. Gli antiossidanti degli agrumi possono anche aiutare a proteggere dallo stress ossidativo. 9. Patate dolci viola. Forse conosci l'arancione vibrante delle patate dolci, ma hai mai sentito parlare delle patate dolci viola? Pare che siano fondamentali per favorire una sana disintossicazione del fegato. Uno studio preclinico sugli animali ha rilevato che le antocianine della patata dolce viola aiutano a combattere lo stress ossidativo nel fegato e facilitano una sana funzionalità epatica. 10. Succo di barbabietola. Quando pensi ai succhi di frutta che ti piace bere, il succo di barbabietola probabilmente non è la prima o la seconda cosa che ti viene in mente. Tuttavia potresti prendere in considerazione l'idea di aggiungerlo alle tue abitudini. I suoi benefici per la salute sono molteplici. Salute del fegato, disintossicazione e sostegno di un peso sano sono tra questi. Uno studio preclinico condotto su ratti alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi e a cui è stato somministrato succo di barbabietola ha evidenziato in loro un fegato sano e grasso. I ratti hanno mantenuto un peso regolare e hanno preservato i livelli già sani di colesterolo e trigliceridi. 11. Cereali integrali. In quanto carboidrati complessi, i cereali integrali contengono nutrienti essenziali come zinco, vitamine del gruppo B e fibre che sono associati a un fegato sano. In uno studio clinico condotto su 12 pazienti per 12 settimane, i ricercatori hanno scoperto che il consumo di cereali integrali è associato a una buona salute del grasso epatico e degli enzimi epatici. Tra i cereali integrali da aggiungere nella tua dieta, se non l'hai ancora fatto, ci sono il riso integrale, l'avena integrale, il pane e la pasta integrali. 12. Caffè. Il caffè probabilmente fa parte del tuo rituale mattutino al risveglio. O forse prendi una tazza di caffè per tirare fino a mezzogiorno. Ma sapevi che non si limita a darti una marcia in più? Può aiutare a dare energia anche al fegato. La capacità antiossidante del caffè aiuta il fegato a filtrare le tossine e a tenere lontano ciò che non serve.